ecco così ok si rossella eccoci qua conto da 5 1 5 4 3 2 e 1 in realtà il conteggio è sempre così simbolico perché in realtà tu sei sempre dopo l'esposizione dei punti già connessa da parecchi minuti la vedo dimmi come la vedi sì lei e lei in un'altra vita in una vita precedente la vedo vestita un po stile tipo mondina ok nella piazza del paese e vedo durante il mercato no quindi la vedo che è lì che comunica con tre persone più o meno del paese che girano lì come se volesse indicare a loro che c'è qualcosa di importante qua davanti ci dà l'autorizzazione e si dà l'autorizzazione assolutamente qual è il senso di questa vita che ci mostra perché dice che la vita che quella v in quella vita lì con la piazza lì e dove a vorrebbe far vedere anche in questa vita sempre in quella piazza alle persone del luogo anche se sono diverse come se volesse lasciare la funzione lasciare al paese e quindi lo faceva e non capisco il paese si fa sempre lo stesso e lasciare le informazioni alle persone come faceva allora ok la vede in questa piazza che lei comunica ma nella stessa città in cui abita se possiamo dire la rossella delle streghe no possiamo dire questa città ok benevento le streghe di benevento a che fare con questa cosa allora vedo che lì lei esponeva la sua verità cioè esponeva alle persone e al popolo vedo tante donne soprattutto vedo tipo galline donne che rizzolavano in questa piazza e quello che che lei era lì a fare era comunicare quello che lei sapeva le sue conoscenze a tutti no a chi lo voleva sapere vuole fare la stessa cosa oggi sempre per per la stessa piazza di benevento per lo stesso luogo quindi come se volesse lasciare a benevento sempre le informazioni anche in questa vita ok chiamiamoli tutti gli abitanti di benevento nel cinema tutti tutta la famiglia di rossella la sua quella di provenienza tutti tutti invitati no fatto si presentano chi della sua famiglia della sua famiglia vedo le due figlie una zia può essere una zia è un cucina una cugina e del paese che percentuale 70 per cento beh vibrazione di rossella 1,5 miliardi consapevolezza 123 psp 61 1 e 39 vite precedenti 1827 e percentuale di cervello 8,1 ok al cinema invitiamo anche il sacerdote si presenta si si presenta è come se sapesse già quale è una parte di che lui c'è come se una parte di informazione in fondo in fondo in fondo la sa già e arriva un po' ti un po' timoroso mi dice per ora sto poi se diventa troppo vado è la fiamma se è interferito se da cosa ha interferito da allora l'ho visto prima molto chiaro e l'ho visto molto chiaro questa cosa sopravvisto i soliti l'ho visto proprio è come se ci fosse sopra un probabilmente è tipo una una stazione spaziale enorme ok dove per ogni persona o per ogni persona diciamo interferita da queste informazioni c'è un elohim che scende ma rimane come se rimanesse collegato a questa enorme stazione spaziale da un tubo no e per quanto riguarda i sacerdoti preti così e il tubo è più grosso a volte hanno due o tre elohim che interferiscono insieme va bene lui cosa che quando vede questa cosa 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 dice è come se se lo sentisse che c'era qualcosa che che gli faceva che lo dice come se mi trattengono no no come se mi faccio intrattene trattenere anche se la mia anima il mio benessere ora oggi andrebbe da un'altra parte ma il compromesso di poter aiutare delle persone fa sì che io rimanga agganciato a queste a questo meccanismo e lui aiuta le persone a suo modo sì nel senso che a volte si trova proprio in questa dicotomia no vorrebbe aiutarle a modo suo ma per regolamenti e le regole che gli sono state imposte a volte non può ok mettiamogli offriamogli la possibilità di mettersi degli occhiali occhiali speciali che non sono esclusivamente gli esseri di luce se li accetta andiamo nella sua chiesa e vediamo se è pulita non ce ne sono un po allora vedo ce ne sono se le fatti li ha messi e gli ha fatto vedere divenire che mostro cosa c'è nessuno allora 0 ma più quando vuota ce ne sono fissi 20 e quando è piena la norma della vigilia di natale che nel senso vuota intendo quando non ci sono cerimonie no quindi quando ce l'ha messa quando non ce ne sono nessun dito che ci sono questi venti e quando le persone entrano magari si mettono a pregare così questi esseri di luce ci sono l'energia notte di natale così arrivano anche fino a 150 volte andiamo con il sacerdote a notredamma prima dell'incendio quale è la causa esoterica dell'incendio il nostro signora un avvertimento di chi per cosa ea chi allora c'erano erano uscite erano erano tipo delle prove che lì sotto che lì sotto c'erano dei le stanze vedo delle grosse stanze dove tenevano bambini anche legati imbavagliati per come se fosse un momento di passaggio ok poi vedo che da lì partiva un tunnel e arriva arrivava e sotto a un palazzo e sotto questo palazzo poi c'era una stanza con gli altari sacrificali deve facevano i sacrifici e ci sono giornate cosa dice di notre dame magazzino di stoccaggio di bambini francamente e questi giornati non li capisco sono attività laiche che aiutano quindi qual è il motivo per cui state lì se non ne siete neanche voi convinti qualcosa vi tiene lì tra l'altro questo sacerdote ha pure perso l'occasione di mettersi con la fiamma voglia tira e mi dovrebbe salvare mi dovrebbe insegnare e mi dovrebbe aiutare sono capito niente io non mi faccio aiutare da uno che non ha capito niente che alla bc ancora che alla beccedaria sta imparando l'alfabeto che chi vuoi che aiuti uno che non sa neanche cosa l'alfabeto a a b b ci siamo lì ecco la bacchetta che che segna le lettere lavagna cioè questo che cavolo ci fa lì io lo chiedo io così da caterpillar che sono che ci fai lì ho avuto delle occasioni per uscire ma non sono riuscito questa interferenza grossa voluto a me ha fatto voluto no se vabbè questa non è la sua sessione se vuole restare al cinema ci resta se no se ne va interferenze perché di rossella allora abbiamo un altro anche anche su di lei vedo né lui che come se fosse affiancato no a questi a questi due sacerdote col tubo grande lena uno poi ce n'è un altro che c'è una mantide ok che collegata al praticamente si è si è collegata a rossella quando ha iniziato a fare lavori con la cassa la mantide quindi poi c'è un uomo di tempo non che li continua a stare qui a controllare che non torna indietro sui passi poi 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 edl ci sono edl ce ne sono quattro ok super capo chi è se us dove ci sono edl ci sono entità mentali così se ce ne sono due ce ne sono due di livello 2 4 ok quali sono i compiti della 2 vedo vedo che è come se le cambiasse sempre le sue informazioni di libertà tra virgolette cioè ne arriva arriva un intuizione ok che il suo collegamento con la sua ps che dice ok oggi non cucini perché tu oggi e oggi non cucine vai fuori ti metti a fare ceramica ok durante il momento del pranzo e poi dopo e gli altri si arrangiano no ok questa è la sua ps che gli parla in quel momento lì entità di livello 2 le cambia l'informazione e le dice tu adesso cucini e la ceramica la fai dopo sei tempo ok quindi le cambia proprio l'informazione a livello di pensieri subito dopo quella che le arriva verso la sua libertà verso la sua serenità verso la sua sua priorità centratura lei le piace creare e si è chiaro deve anche cucinare però l'essenza è quella potrebbe una sera continuare a creare e chiamare una consegna a domicilio invece senso di colpa si è una brava un altro può cucinare qualcun altro se adesso di colpa non sia una brava mamma non sia una brava moglie queste cose qua insomma vabbè la guerra simpanico una classica e la 4 allora la 4 è quella che agisce molto a livello fisico con lei diciamo che ha iniziato agire a livello fisico perché solo a livello di basse vibrazioni o a livello mentale non riuscivano a tenerla non riusciva a tenere le redini nodi di rossella e quindi ha dovuto iniziare a proprio a interferire a livello fisico ok è quella che da tempo fa sì che lei respiri male ok perché è come se col suo apparato diciamo respiratorio e riuscisse ad annusare tra virgolette l'informazione che la fa stare bene che la fa andare verso la sua centratura verso la direzione la sua strada ok e quindi questo doveva essere bloccato vedo proprio che c'è un impianto mentale che è proprio dietro è proprio messo tipo qua ok proprio dietro al all osso più o meno che appunto la funzione di mandare degli impulsi per far sì che lei non riesca a sentire quindi che sforzi si infiamma si infiamma sempre più e infiammandosi sempre di più negli anni adesso fa 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 anche fatica a livello proprio respiratorio di brocchino quindi mentale l'impianto vediamo gli impianti eterici invece ma non come elenco classico questi vedendo la causa esoterica di alcuni aspetti se è un impianto eterico mi dice c'è un impianto eterico lì e la ok la rinite l'abbiamo visto l'oppressione bronchi non è un impianto ma è la conseguenza di tutti questi anni di questa rinite ok è proprio una conseguenza l'infiammazione è come se non riuscisse a togliersi l'infiammazione quindi sempre di più arriva fino ai bronchi l'oppressione al cuore no quella lì è un impulso che le dà non c'è un impianto ma arriva informazione da parte in entità di livello 4 ok quando lei è lanciatissima verso proprio sta per fare l'azione potente no per la sua evoluzione le fa arrivare un'oppressione proprio mancanza di respiro che fa sì che le venga questo attacco di panico e lei si deve fermare per forza naso con le orecchie vabbè è quello se si è certo e irritazione mucose uguale sì 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 l'infoma mediastino soprattutto anni fa si è la sua contrasto ok contrasto proprio tu devi rimanere lì perché la società dice che devi fare questo che devi essere mogli essere mamma di essere una brava amore deve essere una brava mamma queste cose qua ok mentre la sua strada era un'altra e lei aveva proprio la impulso ad andare da un'altra parte ok fare altre cose e invece è stata proprio trattenuta è come se vedessi come se lì ci fosse un una placca ok messa lì e tira e tirata indietro con delle dei fili metallici ok i fili metallici non ci sono però la placca c'era ok e quindi era proprio tirata lì ferma e lì questo ha fatto sì che si chiamasse tutta la parte perché la sua spinta in avanti era fortissima e di silenzia infiammato tutto il linfoma arriva dopo una grossa fase pesante importante fase di rossella religiosa molte preghiere e il l'avventura il rapporto con il sacerdote ma se diciamo che è come se lei allora la sua spinta era ok verso il sacerdote la sua grossa spinta era verso sacerdote che lo sentiva che che sacerdote era la sua fiamma ok però in quel momento lì aveva fiducia nella preghiera ok ed era una per lei è stata un'arma a doppio taglio perché più pregava e più la trattenevano ok l'uomo del tempo ha usato questo meccanismo per trattenerla ok ma la sua spinta era fortissima era proprio una tirare no da una parte e dall'altra e quindi con queste forti interferenze deve notare l'infoma ok causa sotereca di polemia i denti gengive denti disallineati ok la vedo più c'è una causa esoterica più proprio fisica la sua reazione emotiva tutto queste alle questioni della sua vita diciamo è come se lei sfogasse tutto lì ok diciamo che quella parte lì è sempre la parte dei denti ok riuscire a prendere boccone trattenere boccone ok quindi lei si è allontanata completamente da quello che in realtà la sua ps lei stessa volevano cioè la sua strada era da un'altra parte ok lei è andata completamente all'opposto e quindi sempre come prendo il boccone ma non lo trattengo prende un ma non lo trattengo e tutti questi anni alla fine questo fa ok causa sotereca degli attacchi di panico non abbiamo visto prima era quello che l'entità di livello 4 quando lei è proprio lanciata che sta a fare sta per fare un'azione che è per lei una svolta potrebbe rappresentare una grossa svolta o che è un passo importante di consapevolezza l'entità di livello 4 le crea questo questo sintomo improvvisito questa mancanza di respiro l'attacco di panico in maniera tale che lei si ferma per forza viene gambe allora ci sono due impianti le impianti sul sul dorso del piede ok e c'è un impianto più o meno a livello dell'ombelico e per far passare gli impulsi per prendere l'energia di rossella fanno c'è questo collegamento tra i due impianti dei piedi e quello sull'ombelico ok e continuano c'è continuano vedo ho visto anche prima anche alcune abduction durante le notti così e continuano e adesso il fisico inizia a risentirne di questa cosa perché anche a livello fisico poi fegato no fegato non vedo collo coro l'ho visto prima li vedo che c'è attaccata la sua mamma chiamiamolo mancata in avanzata età quindi fatto tutta la sua vita dimmi come la vedi se la vedi se arriva si è arrivata e se anche questo anche in eterico si è messa sopra il collo di rossella ma secondo si dice ti salto al collo a che fare con è come se lei dovesse fosse sicura che se la necessità che lei sia lì cioè lei non può fare io devo vedere tutto quello che lei fa perché lei non può fare niente se io non so cosa fa lei è attaccata la terra rossella si ok chiamiamo se vuole venire un disincarnato molto evoluto staccato dalla terra che non è andato nel portale auro semplicemente perché non lo sa ma chi ha visto le sue interferenze che è staccato dalla terra capito che deve essere staccato dalla terra abbastanza evoluto molto evoluto chiamiamolo se possibile della cerchia dei parenti di rossella se no a uno qualunque è arrivato arrivato un uomo che dice che fa bello vedo bello forte nel senso tranquillo è come se come si presenta ok lo vedo forte è come se se guardo se guarda attraverso posso vedere la quantità di informazione e di consapevolezza che hanno se io andassi a leggere nel particolare poter vedere tante cose quello che lui sa e che ha consapevolizzato facciamo conoscere la madre e questo disincarnato che si scambino informazioni quindi la madre dirà disincarnato io devo stare attaccata alla colla di mia figlia devo vedere cosa fa e disincarnato cosa le dice disincarnato è andato la e come è come se le avesse passato le informazioni con le mani no quindi ha appoggiato le mani sulle due spalle della mamma di rossella e mentre le appoggiava la mamma di rossella si staccava un piano si sta staccando ok consapevole che era che è proprio quel delle informazioni quindi man mano che la che le teneva le mani sulle spalle la consapevolezza arrivava alla mamma di rossella e adesso si è staccata e dice cavolo questa cosa non l'avevo mai vista non lo sapevo vuole dire qualcosa rossella l'esperienza l'esperienza che abbiamo fatto insieme questa vita è stata scelta dalle nostre ps in accordo io dovevo fare la mamma aggressiva controllante e tu devi fare la figlia che subiva la mamma aggressiva e controllante anche sera dice a volte per niente piacevole ma al di là di questo messaggio così come dire non molto costruttivo adesso si vedo vedo quanto sei stupenda e che bello sei bellissima le dice bellissima vedo la tua è come se vedesse dice vedo la tua creatività che diventa vibrazione e luce la guardo che guarda la guarda rossella no e mentre guarda rossella da rossella lei vede proprio che esce questo questo ventaglio ok di vibrazione luce dalla sua creatività ma bene facciamo aprire la madre o allo sconosciuto il portale aurea lo sconosciuto ok chiamiamo tutti quelli che vogliono chiamare la madre e lo sconosciuto per esempio tutti i disincarnati di benevento magari tutte le streghe di benevento tutti quelli che passano di lì tutti quelli che voi aspettavano questo momento tutti i cini vacati che sono rimasti secchi così signor molloc rimane a bocca asciutta la sua raccolta di anime finisce chi si presenta partiamo dai parenti di rossella allora ci sono due non è un nonno e video due zii uomini e c'è una ragazza c'è una zia però che era tipo morta giovane dello sconosciuto ma dello sconosciuto si presentano come si chiama lo sconosciuto jerry 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 il collage jerry 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 si presentano due uomini uno è il papà e l'altro è un amico poi la mamma è una zia che lì e cinema cani cineboccati ne arrivano 35.000 quindi una piccola percentuale cesti bene tutti nel portale auro lo apriamo e lo chiudiamo ok chiuso perfetto parentesi di rossella del passato si avvicina molto e diventa anche insegnante di una certo di un certo tipo di meditazione non diciamo quale in quel periodo si avvicina la cascia l'abbiamo visto costellazioni familiari chiama angeli e li invoca angeli elohim fa canalizzazioni meditazioni metatron da tutto questo periodo senza andare a vedere cosa chi quale a cosa raccoglie cosa porta a casa grande consapevolezza un grande salto quanti con sono anche questo dicendo o interferenze e se interferenze di che tipo o impianti se impianti di che tipo allora le interferenze appunto vedo queste due c'era questo è l'ome questo elohim e questa mantide che arrivano da tutto questo periodo ok e poi tutte le volte che diciamo che anche lei è scesa il compromesso ha firmato il compromesso che le fanno credere che stare meglio quel momento lì mentre uno mentre prego appena dopo diciamo fanno fanno credere che uno stia meglio sia più sereno no per cui dieci minuti quarto d'ora dopo mezz'ora so però durante tutta la preghiera gli è stato tolto tante energie è stato succiato un sacco di energia e quindi le persone poi sono più stati che è come se come se togliessero una parte di batteria no e la parte che rimane può fare solo un determinato movimento e quindi tutte le volte che le faceva delle preghiere o evocava soprattutto gli angeli così questo era il meccanismo quindi durante la preghiera veniva succiata l'energia dopo sentiva più serena per un piccolo breve tempo ea canalizzato via canalizzato allora in realtà in quel caso lì è come se è come se attraverso la canalizzatrice che le aveva insegnato le venissero arrivasse delle informazioni e le canalizzava quello ok quindi l'interferenza interferisce interferiva sulla canalizzatrice e la canalizzatrice attraverso la canalizzatrice ci arrivano informazioni a lei da canalizzare ok cose tutte ricade sentirsi in famiglia giudicata pecora nera sempre a disagio sì quello lì è l'entità di livello 2 che fa sì che anche all'esterno venga giudicata sbagliata stessa colpa vabbè poi è anche da aggiungere che lei quella consapevole quindi se sei consapevole in mezzo agli inconsapevoli vieni in qualche modo se il diverso no certo il diverso non è quello che per forza torto diverso magari ha ragione però se la pecora nera l'importante fregarsene la cosa poi finita lì ok causa sottica della paura del buio 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 essere sotterrati essere in luoghi chiusi piccoli quindi l'ascensore sono le abduction abduction che ho visto prima ci sono state degli abduction anche dove ci sono state delle volte dove le hanno fatto l'abduction erano chiusa in questa specie di te che l'hanno sostituita è come se avessero spento lei tra virgolette avessero fatto agire un clone suo clone con le sue informazioni ok in un'altra zona però perché vedo che li alfano di notte di giorno se ne sarebbe probabilmente accorta e quindi lo fanno di notte e vedo proprio che la mettono con questo lettino la chiudono ok passano l'informazione al clone e poi agisce il clone per un po e poi lei torna dovere lo stesso la mancanza del fiato no si respiro anche anche sì sì anche e la paura delle altezze è sempre da lì perché vedo che come se cioè quando lei come se si come se avesse dei flash di memoria di queste abduction anche quindi anche il ritorno perché lo spostamento dalla dalla navicella a letto ok fatto in interco è talmente veloce che se uno si accorge per il corpo è troppo veloce no se non si è abituato e quindi come se le avesse del profondo profondo del suo cervello della sua memoria degli sprazi ti ricordino e quindi se c'è il buio torna la la memoria se chiusa torna la memoria di questa teca e quindi anche gli spazi vuoti sotto perché ritorno dalla quindi vedo proprio che lei se a questi sprazi di memoria ok causa di ricca dei problemi di soldi diciamo che lei è sempre giusta allora diciamo che con quello percorso che ha fatto no quindi anche meditazione trascendentali acacia così le hanno insegnato a creare la propria realtà in qualche maniera no quindi l'informazione era quella ma è un'arma doppio taglio perché loro non vogliono che tu sia consapevole e libero quindi ci fanno arrivare informazioni un po distorte ok quindi se crei la tua realtà ma tu vuoi creare diciamo ti mettiamo il pensiero che tu vuoi i soldi appena appena giusti che no quindi come se fosse senso di colpa i soldi fanno schifo anche a livello religioso no quindi lei c'ha tutte queste informazioni che collaborano c'è come se andassero tutte verso la stessa direzione quindi da tutte le parti quello che le arriva e tu di star lì di far quello e c'è se non c'è il senso di colpa peccato bravo la va bene ultimo argomento che interessa molto rossella gravo voi tutti me lo chiedono ancora vivente chiamiamolo mini perico se ci vuole venire a spiegare la provenienza il valore gli effetti delle sue sequenze numeriche la vita eterna allora grabo voi che dice di essere l'incarnazione di gesù qualcuno dice che lui l'incarnazione di gesù cioè dell'archetipo vede che tipo umanoide c'è una parte di dna che non è umana tipo di dna stiamo parlando elohim allora ma al solito come al solito l'informazione potrebbe essere pura e diciamo una certa parte la base dell'informazione la danno una certa parte la devo sarebbe molto buono molto efficace anche a livello biologico no ok ma quindi il concetto in sé funziona ma tutta la parte che viene data in superficiale ok quindi la base quando poi si va nel dettaglio e nel profondo l'inizio essere interferita quindi sempre un modo un meccanismo per far sì che la persona non possa utilizzarla per il suo per il suo benessere ok e le persone che riescono ad approfondire utilizzarla sono interferite da questa da questa informazione di elohim ok che vanno tutti in quella direzione di quello che dicevo prima no è come se ci fosse una grossa navicella dove ci sono un elohim o due o tre a seconda di e dei comparti di informazioni e qui uno si può fare la sua sequenza numerica se ha proprio voglia di farsi una sequenza numerica secondo me ha bisogno di uno che gli dica una sequenza numerica una sequenza di essenze dolly profumati una sequenza di petali di rosa una sequenza di unghie di gatto tagliate una sequenza di tappi di bottiglie di vino sughero uno ha bisogno di questo ci sono alcuni che mi hanno scritto che hanno commentato e mi hanno scritto io ho abbracciato le sequenze numeriche poi hanno iniziato il mal di testa interrotto e ripreso stare bene perché perché ad alcuni non fa bene alcuni fa bene alcuni a quelli che alcuni lo assolvono allora diciamo che il funzionamento è sempre lo stesso c'è l'interferenza no quindi le informazioni che vengono date sono interferite anche di chi impare chi le utilizza ok sono interferite quasi sempre mettono un impianto quindi quel caso lì che tu hai detto visto proprio chiaro mentre lo descrivevi che gli viene nessuno impianto solo che la psd è molto forte ok e quindi percepisce che è un'interferenza e cerca di buttarla fuori e in effetti poi è riuscito a buttarla fuori che nella maggior parte dei casi la ps non riesce quindi poi manda informazioni interferite con allora vedo proprio che è come se fossero dei codici a volte è come se mettessero una base la base di informazione che è pulita e poi da quella l'interferenza lo utilizzassero per mandare dei codici e far sì che arriva questo codice alle persone e le vibrazioni poi si si registrano a questo codice le vibrazioni da cui loro poi riescono a prendere energia diciamo che se io non ho capito niente non sto cercando delle risposte consapevolezza quindi sbatterci la faccia sbattere sbatterci farsi degli sbattimenti non mi va mi arriva uno e mi dice toh questa è una questa è una sequenza di numeri se la pratichi in un qualche modo otterrai questi risultati non ha senso nel senso è come chiedere aiuto è come chiedere la gioia e come questo quello che dovrebbe accendersi nella testa delle persone così aspetta 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 siti disattivo il microfono ok si è caduta rossella perché è caduta beh rossella è abbastanza potente io la vedo molto e forte lei ha una ps molto forte quindi infatti tutte queste interferenze proprio perché lei lei forte potevano fermarla solo così infatti la parte tutta la parte fisica di solito interferiscono a livello fisico così in maniera preponderante con persone che potenzialmente sono molto consapevoli stavo dicendo rossella che chi ha dei problemi come tutti e ricorre a delle sequenze numeriche vuole 1 la scorciatoia 2 la papa pronta le sequenze me le dai tu io non devo fare niente e poi una scorciatoia perché io con quelle riesco ottenere questo questo quell'altro obiettivo che inevitabilmente questo sistema non vada bene e non abbia senso lo si dovrebbe capire un po da soli quindi già la domanda su su gravo voi a mio avviso non ha senso uno dovrebbe sentirle le cose da solo e dire ma io così che faccio riparo niente che ho dei risultati probabilmente in parte probabilmente no in ogni caso non me li sono sudati conquistati quindi diciamo che non sono miei no questo a mio avviso dovrebbe essere il l'approccio il il senso se va bene ok quindi salutiamo gesù ma lui si è presentato che assi si grabo voi si si ed è un punto di vedere l'hai visto e ho visto questo la figura di umano ma poi ho visto che umanoide quindi metà metà lo vedo un po con tipo tipo dei cappelli cappelli un po qua così una giacca sembra un po una giacca tipo prestigiatori maghi di una volta non lunga e non e maghi tipo mago mago ma sai quando facevano gli spettacoli prestigiatori con quelle giacche così mister elohim rossella cosa vuole fare certo abbiamo fatti condurre da lei al cluster ok come la vedi cosa fa ci sono queste ciotole di ceramica e dentro ci sono tipo ci sono delle biglie e c'è ogni ciotola è una vita e dentro ci sono le biglioni biglie è un contratto praticamente sta per aprire il portale definitivo che fa la frena non mi ha guardato come per dire posso no c'è vado non posso ma vado a dire e ora e allora gli ho detto infatti tranquillamente che può e quindi lo sta prendo adesso sta lanciando dentro tutte le ciotole e adesso l'ha chiuso faccio vedere come creare la d'eterno l'ho fatto è la mazzurri ok ok mettiamolo lì in mezzo al suo cluster a come dire custode della situazione ed andiamo all'avatar adesso arrivano alle sentire co no non c'è più arriva tre secondi veramente adesso è incredibile perché il tempo che arriva adesso non sono in fretta sa che mi ero dimenticato chiama lì questi anche a posteriore lo possiamo fare tranquillamente prima nell'esposizione dei punti la mia voce elettrica radiolina chiama quei responsabili lì tutti nel portale dell'oblio definitivo poi questi poi quelli che non abbiamo sentito tutti tutti quelli che controllavano via fatti chiare amicizia lunga se continuano cazzo loro ma cambia la vita io ho tutti i portali dell'oblio che voglio ok quanti in totale sono andati 10 ma esseri viventi sì partire che di essere viventi e se e le sue viventi che ne fanno e si immobilizzano hanno come una crisi come se avessero toccato la corrente e poi per un po' poi vedo uno di loro adesso sto guardando è come se mi chiede aiuto è come se gli passassero proprio a zero quasi come se gli passassero a traccia non li passano attraverso ma non lo vedono quindi a scompaiono così alla vista proprio chi se la cerca se le piglia e avatar niente di che li ha rassegnato ma per un portale definitivo rossella ok se l'ha buttato dentro è chiuso il portale ok staccherandola d'eterno e l'ha messo lì fatto ok nel corpo eterico e subliminale esistono ancora impianti impianti eterici mentali entità eterica mentale gli edl le abduction eventuali cloni ente mentale entità mentale collettive residui energetici di ogni tipo di ricordi di fatti di paure del buio di paure di essere seppelliti di pure di ogni tipo ok a guardia allora della situazione cioè a sigillo c'era l'acca della situazione mettiamo cinque nuovi ad eternum alziamo la frequenza in maniera puntuale in ogni singolo corpo fisico dove lo mette qua lo mettono tutti lì è spesso se che al centro se così serve su e serve giù mentale lo mette in cima nel cervello ma in cima e emozionale e l'ha messo tipo praticamente dove c'è la cresta eliaca un pochino più verso il pube sinistra subliminale e terrico fatto che se nuova vibrazione 150 mila miliardi mila 150 miliardi no no 50 mila 50 mila io l'ho visto che lei era era tanto potente si assesterà che vibrazione 35.000 ma una cifra folle eravamo rimasti 250 miliardi no scusa a c spettano a 150 miliardi quanti sono i nizzeri 150 più 93 si scusa se a 50 miliardi ok percentuale di consapevolezza 173 psp 58 e 42 vite precedenti 1916 1900 e sono aumentate erano 1827 mi sembra si è scritto bene sono aumentate come mai ogni tanto capitale vedo ogni tanto come se allora la ps mi fa vedere che come se alcune dovesse vivere in altri tempi altre vite per rifare l'esperienza è come se cancellando l'esperienza soprattutto a parte legata alla religione religiosa così ok come se all'inizio di questa vita erano novecento 1900 16 non mi potete adesso ok all'inizio di questa vita e con l'esperienza religiosa ne aveva cancellato alcune perché niente aveva fatto quell'esperienza lì stava facendo con l'esperienza lì ok cancellando quell'esperienza è tornata la l'esperienza di doveva fare delle cose va bene percentuale di cervello 8,7 messaggio finale delle ps della p e di rossello a se stessa va bene una cosa che sai fare benissimo mentre tu fai ceramica quella è una cosa che ti aiuta a imparare a centrarti perfettamente con la tua ps e quello assolutamente sì e poi mi fa vedere allora come se per gli obiettivi le dice tu già da domani cioè già da oggi da questo momento in poi come se come adesso come la situazione adesso tu puoi iniziare a andare verso i tuoi obiettivi ok sono molto gli obiettivi non devono essere enormi non devono essere di piccoli molto semplici molto concreti che si possono fare in pochissimo ok quindi tu ti metti l'obiettivo e fai ogni giorno un piccolo pezzetto vedo è come se dice come se e aveva a che fare con animali piccoli animali potrebbero essere o gallini o qualcosa del genere oppure dei gatti piacere all'esterno ecco all'esterno ok come se tu ogni giorno devi passare un quarto d'ora a gestire questa gestire gli animali ok mentre gestisce l'animale tu devi concentrarti sul tuo obiettivo ok ed impari a centrarti mentre fai ceramica però non so se ok e circa la fiamma lei chiede la fiamma si è incarnata in sacerdote non è che ci sia molto da dire tu puoi fare hai fatto hai fatto la tua pulizia e tartere tue le tue interferenze ma se lui non toglie su interferenze gli uomini del tempo ha giusto di lui ma non hanno neanche bisogno è un sacerdote no appunto nel senso cioè con l'interferenza non ne hanno bisogno perché è già interferito di suoi già sacerdote così rimane lì va bene elena come la vidi rossella e ancora mondina ma no adesso la vedo qua in questa vita la vedo la vedo vestita in maniera colorata e diciamo le si è messo ogni pezzo di tanti colori no come se avesse che ne sono un pantalone verde uno rosso una manica già la manica viola qua bianco dietro rosa ok e sono tutti i colori della delle di suoi obiettivi e la che girano intorno a lei a 360 gradi adesso vuole muoversi verso tutti i suoi colori benissimo come vedi tutti quelli che erano al cinema allora tutti diciamo che hanno hanno preso l'informazione come se fosse un comizio comunale ok quindi l'informazione l'anno peresa una gran parte molto entusiasti una gran parte ha preso l'informazione va con l'informazione c'era se lei così se c'è mai di abitare c'è da quel treno si accettate ha visto però adesso è andato è troppo ok parenti allora se io vedo allora le tue figlie così molto life ma prendono l'informazione marito un po un po così ma l'apprendeva vabbè se dire vabbè intanto quella strana no ecco e gli abitati di benevento gli abitati benevento appunto dicevo prima come se fossero stati a un comizio no quindi l'informazione l'hanno presa tutti l'hanno presa ok hanno ascoltato e alcuni sono molto entusiasti e sono molto contenti di poter prendere la pillola vic parare a fare l'eterno va bene è pronto a tornare l'ela se abbiamo finito allora disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo allora